Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche se è una cosa piuttosto inquietante, però ci stanno tutta una serie di segnali che soprattutto dopo che ho scritto il libro mi hanno fatto capire che si sta andando in quella direzione. Ma la protagonista è vera, reale? E la protagonista non si capisce, il morale della favola è questa, che alla fine del racconto non resta questo dubbio se questa protagonista esista o meno. No, ci stanno degli indizi che ti fanno capire che probabilmente esiste, ma resta l'incertezza, tanto è vero che poi i lettori mi hanno mandato un sacco di mail e di messaggi per farci capire che fine fa ci sta, non ci sta. E di pochi giorni fa la notizia che il traffico generato in rete dai robot ha superato quello degli umani. Cioè, quindi oggi ci sono una serie di messaggi che ci arrivano a tutti noi per email, alcuni dei quali si vede chiaramente che sono stati generati in maniera automatica, magari chiamandoti per nome, eccetera. Altri magari sono fatti in maniera così sottile che tu non te ne accorgi, hai l'impressione di parlare con una persona. Le tecniche della matematica applicata al settore delle neuroscienze, della semantica, è arrivata già adesso a creare dei modelli, per esempio, di interazione tra due persone o tra una domanda e una risposta, che sono molto evoluti. Io ricordo che già vent'anni fa giravano dei programmi, all'epoca relativamente semplici, perché ricordo che stavano su dei floppy, quindi giravano sui vecchi computer in DOS, dove questi programmi simulavano il colloquio con uno psicoterapeuta, dove tu ponevi delle domande, e ti venivano delle risposte che per un po' di tempo almeno erano delle risposte assolutamente plausibili, quelle che ti avrebbe potuto dare una persona, scritte in un italiano corretto, che riprendevano le cose che dicevi tu e erano scritte in maniera assolutamente sensata. Ora immaginiamo quello che si può riuscire a fare con vent'anni di evoluzione a livello informatico, a livello di ricerca, di matematica applicata, di potenza dei computer e avendo a disposizione delle basi di dati, delle informazioni quasi sterminate, che sono tutti gli archivi delle email, dove noi rispondiamo a delle persone e quindi c'è una domanda, una risposta e quindi c'è materiale per arrivare a codificare un modo di rispondere a una domanda. La navigazione, certo, ma io parlo proprio a livello semantico, il modo con cui tu parli, i social media ovviamente, quindi il modo di interagire di ognuno di noi può essere codificato da tanti punti di vista, sotto, possiamo dare decine di aggettivi al modo con cui noi diciamo la maniera più formale, più informale, grammaticalmente corretta o incorretta, frasi lunghe, frasi brevi e tutti questi attributi possono essere parametrizzati, possono avere un numero, quindi ognuno di noi può essere caratterizzato da un profilo che spiega a lui come risponde quando gli viene fatta una domanda. Ci sta questa possibilità che ad una email ti vede arrivare una risposta plausibile che attribuisci ad una persona e questa persona potrebbe non averla mandata a lei, ma addirittura potrebbe non essere più in vita, nel senso che se è stata fatta questa fotografia della psicologia di questa persona sulla base dei suoi archivi, questa persona ti può rispondere anche quando non c'è più e tu non lo sai magari, no? Come in modo di videogiochi che adesso non lo ha detto, tu interagisci con la tua strategia, sì, 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 certo, certo. Tu invece il videogioco imparavi la struttura a base di quello che succede, invece adesso no, a seconda di come vari, variano anche le risposte nel videogioco. Certamente, certamente. E una variabile in più può essere anche la voce, nel senso che oggi siamo ormai abituati al fatto che entriamo in macchina ci sta una voce generalmente femminile, perché sono sempre femminili, allacciare le cinture, gira a destra, eccetera. Non ci vorrebbe molto a personalizzare questa voce con il timbro di voce, con il modo di parlare di ognuno. Oddio, non è che non ci vorrebbe molto, ci vuole un po' di lavoro, si può fare. Se questa interazione domanda-risposta è così veloce da poter avvenire in tempo reale ed essere legata anche alla sintesi della voce personalizzata in tempo reale, ecco che quello che avevamo ipotizzato che avvenisse per email può avvenire per telefono. Cioè tu chiami una persona e non sai se stai parlando con questa persona o con il suo robot. Il protagonista ci prova con una domanda strana che rivolge alla madre alla fine del racconto, ma questa non la raccontiamo, si chiama Il caffè di Turing. Dunque lo troviamo sul web sicuramente come ebook e come cartaceo al mio sito gianfrancorizzo.it, nonché su ilmiolibro.it, sulla Feltrinelli, su Amazon come ebook e poi si può ordinare alle librerie Feltrinelli secondo il meccanismo dei libri on demand e per le persone che stanno al campus di Fisciano stanno alla libreria QS, ma sono poche copie. Si rischia di andare in questa direzione, ci possono essere, tra l'altro quando dico rischia sembrerebbe che stiamo vedendo soltanto gli aspetti negativi di questo. Nel libro chiaramente ci gioco e traccio, ne esce fuori un racconto, un po' un thriller di quello che potrebbe succedere a questa persona che chiaramente non si aspettava che la sua interlocutrice potesse essere un'interlocutrice virtuale. in realtà una tecnologia che sia in grado di sintetizzare quello che ci sta dentro ognuno di noi e di farlo convergere in un sapere codificato può avere dei vantaggi incredibili. Quindi pensiamo, e questo già si sta facendo, per esempio alla medicina, pensiamo a paesi dove magari sta arrivando e arriverà la rete, ma dove non è possibile far arrivare in ogni pizzo del mondo una squadra di medici e quindi pensiamo alla possibilità di poter fare delle diagnosi a distanza e che queste diagnosi convergano in una banca dati dove converge tutta la sapienza di medici, questo chiaramente pone anche poi un problema, qualcuno si potrà chiedere i medici poi che faranno, ma voglio dire da molti secoli che andiamo in questa direzione, che andiamo a sostituire attività, soprattutto attività di basso livello svolte da umani con attività svolte da macchine, questo è un qualcosa che continuerà e si sta accelerando sicuramente una buona parte di quella che oggi chiamiamo crisi e che attribuiamo alle ruberie della politica, che per carità ci stanno pure, è un fatto sistemico che dipende proprio da questa cosa, cioè si è accelerato un processo di globalizzazione e di sostituzione graduale di attività umane con attività svolte da macchine. E' un bene o un male? Potenzialmente è un bene e queste rivoluzioni non a caso sono state poi accompagnate da rivoluzioni in ambito politico, perché chiaramente era necessaria una ridistribuzione, una riorganizzazione e da un periodo di benessere. Una delle cose, questo adesso non c'entra molto col libro, ma comunque è collegato, che qualcuno ha detto e che mi sembra molto plausibile, ma ne parliamo poco, è che noi siamo probabilmente alle porte di un periodo di straordinario progresso a livello scientifico, ma progresso to court, legato al fatto che c'è un numero molto più grande rispetto a qualche anno fa di persone che si affacciano all'istruzione e all'istruzione superiore. Sentivo dire che passeremo dall'1% attuale di persone che vanno all'università, a livello mondiale, al 5%. Questo significa che le persone che si dedicheranno potenzialmente anche all'attività di ricerca saranno molto maggiori del passato e ci saranno presumibilmente grossi sviluppi a livello di progresso che chiaramente innescano poi tanti interrogativi su come questi benefici si andranno a ripartire e questo è un grosso problema, di cui si parla poco, nel senso che siamo portati come quelli che guardano, si trovano in una foresta e la guardano dall'interno a vedere il problema un pochettino molto polarizzato rispetto ad alcune delle cose che sono sicuramente le anomalie del nostro sistema politico, organizzativo, di lavoro che ci sono, ma se provassimo a guardarla dall'alto la foresta forse avremmo un colpo d'occhio maggiore e vedremmo che ci stanno delle problematiche più generali che si stanno affacciando e alle quali dovremmo dare la risposta. Il caffè di Turing, il caffè di Turing Gianfranco Rizzo.